allora decidiamo plein air plein air club eccolo qua club del plein air entra nel club ed entriamo nel club quindi dobbiamo entrare quindi vuoi comprare la tessera? compriamo la tessera nome luca cognome stella sesso vabbè fate un po' voi no consente il trattamento dei tuoi dati personali alla fine dell'esecuzione e iscrizione anche al PNL e dei conseguenti benefici si poi consente il trattamento dei tuoi dati personali per ricevere le nostre comunicazioni e informazioni indicate agli iscritti si consente la comunicazione dei tuoi dati a soggetti indicati come terza informativa per i finali vi indicate no procedo ci siamo quasi ti abbiamo inviato una mail all'indirizzo che ci ha indicato segui le istruzioni contenute nei mail per completare la procedura di registrazione se vuoi servire la linea indicata controlla nella cartella spam oppure chi ha la procedura se è sbagliato il link ti confermerà dell'indirizzo scadrà tra due ore per ricevere un altro grazie bisogna cliccare qui dentro abbiamo anche lo username che è questo qua e la password temporanea comunque intanto ah ecco guarda li hanno già messi loro accedi non adesso zigo si quello che ha questo sito qui lo diciamo solo l'unico difetto che ha perché poi è chiaro intuitivo e tutto quanto è che è bello lento però per il resto è tanto ecco benvenuto a tuare personale grazie qui puoi acquistare o rinnovare la tessera all'abbonamento plenare scegliere tra i tanti prodotti esclusivi per gli iscritti cambiare la password con la tessera attiva puoi anche con la tessera attiva puoi anche consultare modificare i dati scaricare consultare e qui potrei anche aiubi tessera abbonamento plenare più cche acquista rinnova la tessera acquisto la tessera mi feri del resto eccolo qua io qua metto la password pagamento complicato come dicevo è un po' lentino questo si questo si fatto ho fatto l'iscrizione a plenare grazie 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 a tutti